Nel volume Cucina Romana del 1929, Adaboni afferma che le fettuccine romane, pur nella loro semplicità, possono rivaleggiare con le più accreditate paste asciutte delle altre cucine regionali. Le fettucce devono il proprio nome alle omonime strisce sottili usate per gli orli dei vestiti. Famose le fettuccine alla papalina, create quando il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, richiedette un piatto particolare, ma legato alla tradizione culinaria romana. E adesso andiamo a degustare. Caratteristiche delle fettucce romane, la particolare ruvidetta e il generoso spessore, tipiche delle paste molto trafilate. Tali peculiarità rendono le fettucce romane estremamente versatili, adatte per più svariati condimenti, con grande soddisfazione per il palato. Oltre alla classica interpretazione delle fettuccine alla romana o con sughi a base di cacciagione e funghi, oggi ci piace consigliarvele con alici, fave e pomodoro con cassè. Grazie!